Prendete una pelle di piazza sul piazzone. Prendete 4 volte il tasto di setup fino a che 4 avviene sul display del impianto. Prendete il piazzone o il piazzone. La pelle di piazzone sarà printata. Nota che se il livello è alto, la pelle di piazzone potrebbe non essere printata correttamente. Prendete la pelle di piazzone sul piazzone e il piazzone, con il piazzone sulle piazzone. Aligna il marco che vedete sul piazzone del piazzone con la pelle di piazzone sul piazzone. Prendete il coppia del documento. Prendete il piazzone o il piazzone. Prendete il piazzone o il piazzone. Il piazzone comincia a scannare la pelle di piazzone e la posizione di piazzone sarà aggiustata automaticamente. Non aprire il piazzone o muovere la pelle di piazzone e la pelle di piazzone fino alla procedura di piazzone è completa. Quando la lampa si chiama dopo il piazzone, la procedura è completa. rilassone la pelle di piazzone. È possibile aggiustare la posizione di piazzone manualmente dal computer. Il piazzone deve essere tornato. Prendete almeno due piazzone nel printer. Aprende il tool Canon EJ Printer Assistant Tool. Se non avete installato il tool Assistant ancora, nella descrizione di questo video troverete un link a un video che racconta come lo download. clicke Custom Settings The Custom Settings dialog box appears. Seleccite Align Heads Manually clicke OK When the confirmation message appears, clicke OK clicke Printed Alignment The Printed Alignment dialog box appears clicke Start Do not start another operation clicke OK The printer will print the alignment sheet It will be a sheet like this. It depends on the model and firmware. If the printout is fine, clicke OK Now, in each field A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K you have to enter the number of the pattern with the last prominent streaks or stripes from among the printed patterns. For example, the first pattern is better than the second. Let's suppose that in the column A the best is the number one. Right here, one. In the second column, the best is the number one. Right here, one. And so on. After completing the entries, click OK Click OK Another page will be printed. It will be similar to this. Repeat the operation. Click OK The operation is completed. Click OK Close the assistant tool. If the problem remains, probably you have to change the ink cartridge. Click OK Click OK Grazie a tutti